Bene, adesso che siamo tutti campagnoli troppo bellini, andiamo a cominciare. Io voglio spiegarvi come funziona. Ma che in questo caso la scopa sarebbe il mio compagno, quindi dovete fare delle coppie. E io ora vi spiego. Per primo il giro intero, andiamo fin qua e torniamo, sempre con le braccia così in alto, no? E dopo tutto il movimento le ragazze saltellano e i ragazzi, la scopa saltella qua, saltellano nello stesso momento. Ne facciamo un altro ancora e poi un inchino e un altro inchino. Poi il giro, facciamo così, poi ritorna e quindi si rigira dall'altro lato. Ecco, così, così si fa, eh? Allora, l'avete già capito? Io lo voglio fare. Bene, così possiamo... No, guarda, a me sembra una persona. Non piace ballare così. Mi ascoltate? Ehi, ehi, volete ascoltare, cari dad, per favore? Prova a vedere se questo ti può aiutare. Dami già le cavalieri, per favore. Quello è per farti ascoltare, non per giocarci. Oh no, 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 le spiego. Succede sempre che quando prendo un microfono mi viene di parlare così, nient'altro. Ma bene, allora parla così. Bene. Lei per prima cosa mi deve tenere la scopa, lei sostiene la scopa. Io ballo con la scopa? Sì, sì, il primo ballo lo fa con la scopa solamente. E dopo un po' la batte, la batte a terra. E quando tutti noi ascoltiamo questo rumore, cambiamo automaticamente di coppia. Capito? Sì, va bene, abbiamo capito. D'accordo. Bene, dai, possiamo cominciare. Allora, andiamo a pigiare l'uva. Forza, giro intero. Olè. E l'inchino. Una luna tutta umana, che luna pietra e cammino. In fondo la pobresità, l'uglio e la ponte si ritrova. Cambio. Vieni, vieni con felicità. Ma l'hai visto il tuo naccio? Un fior di cowboy, eh? Sì. Sì, gli manca il cavallo ed è a posto. Vieni qui da me, puledrina. Portamene un po'. Con tanto amore, cowboy. Dimmi, hai già catturato il vitello? Sì, certo, al sorgere del sole. Io ho anche domato il cavallo imbizzarrito che era fuggito. Dimmi un po'. Attenta, hai fritto le mie empanadas per cena? Ed anche le frittelle. Questa è la ragazza perfetta. E questa sera, tieniti pronta, che ci sarà una grande festa nel nostro ranch, ok? Forse ho incontrato il mio cowboy stavolta. Cambio, cambio. Cambio. Dovresti darmi la risposta. Sì, la risposta. Jasmine e Toccioli, hai visti? No, li cerco da questa parte.